Passa anche dal successo in Coppa Italia il salto di categoria nella massima eccellenza siciliana Il Vittoria gioca su due fronti, campionato e Coppa Italia, primo in classifica in campionato e quarti d'andata di Coppa Doppia sfida che inizia al Gianni Cosimo per i uomini di Danilo Rufini che ospitano la russo calcio Quarta in classifica nel girone C, tra le protagoniste e in piena zona playoff lo scorso anno vicinissima al salto di categoria Vittoria che dal primo schiera a Cernigliaro in porta, Ardes, Dioppo, Barbieri, Sferrazza, Pettinato, D'Agosta, Leggio, Diavu, De Vivo e Santana Dirige l'incontro del signor Iari, laurea della sezione di Agrigento, coaduvato agli assistenti Gabriel Battista, Castelletti di Caltanissette e Davide Trovato di Agrigento Passiamo al fine dell'incontro grazie all'immagine a cura di Andrea Martorana Prima occasione all'ottavo di gioco, la rimessa laterale messa dentro da De Vivo, Sferrazza di testa alza sulla traversa Cinque minuti più tardi, D'Agosta, apre per Diavu il nove bianco-rosso, calcia bene ma Cisterna risponde presente e salva il risultato Al giro di boa della prima frazione di gioco, Diavu appoggia a De Vivo, tentativo flebile e palla che non inquadra Il bersaglio grosso, poco prima del quarantesimo, cambia il parziale, pennellata di De Vivo per la testa di Sferrazza Un volo da Angelo che vale l'1-0 per la compagine di Mister Ruffini Cambia il parziale al Gianni Cosimo di Vittoria quando risponde prima del duplice fischio la Russo Sebastiano Calcio con la sfera lavorata sulla sinistra, palla dentro per Leonardo, la testa di Diop salva il Vittoria Va così in archivio la prima frazione di gioco sul parziale di una rete a zero in favore della vittoria Passiamo con le nostre immagini al film della ripresa Dopo cinque minuti da rientro in campo e le formazioni Santana da ottima posizione dopo un batti e ribatti non riesce a calciare bene Blocca agevolmente l'estremo difensore Cisterna al cinquantatresimo D'Agosta va al tiro Cisterna spara sui piedi di Santana L'undici bianco-rosso spara alto a porta libera Cinquantasettesimo calcio d'angolo che arriva sui piedi dell'ex jarre Davide Pettinato Va col destro potente mai preciso Poco dopo l'ora di gioco De Vivo lancia ad Agosta Cisterna ancora una volta risponde presente con un grande intervento sul numero 7 bianco-rosso Intanto dentro Russo per Santana al sessantaseesimo al minuto 70 Tornano in avanti gli etnei punizione messa fuori alla difesa locale Tiro cross di Castorina che arriva al compagno al volo Golpe a rete ma in posizione di offside ravvisata dal primo assistente Tre minuti più tardi occasione e vittoria con la punizione di De Vivo C'è sempre un gran Cisterna sulla sua strada A negargli la gioia del gol con una parata in grande stile Tre minuti più tardi punizione messa dentro alla ricerca di Diop La sfera arriva a Totò d'Agosta che firma il 2-0 a grande rapinatore d'aria Marcatura importantissima in vista della gara di ritorno Fra sette giorni a riposto nel finale spazio a Mititelo Il luogo di Diavù non c'è più tempo al Gianni Cosimo di vittoria Vittoria contro il russo Sebastiano Calcio E già storia nell'andata dei quarti di Coppa Italia Promozione e termina per 2-0 Un saluto amici appassionati Alla prossima